Buonasera, mezzanotte e 58 minuti, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo subito con la politica ancora. La TAV divide i due componenti del governo, Lega e 5 Stelle, mai così lontani come in questi giorni. Salvini ha rimandato tutto a lunedì, che è l'ultimo giorno utile per i bandi, ma dalle parti del Movimento 5 Stelle il nervosismo è molto alto. E' stata pronunciata chiaramente la frase crisi di governo. Le opposizioni si dicono pronte a tornare al voto. Voto che potrebbe essere lo stesso giorno delle elezioni europee a maggio. Il servizio. Nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato. Lavoriamo per unire, per dare lavoro, sviluppo e futuro all'Italia. Col buon senso si risolve tutto. Le parole di Matteo Salvini, rassicuranti per l'alleato 5 Stelle, arrivano al termine della giornata, caratterizzata ancora da uno scambio durissimo di battute sul caso TAV. Salvini infatti dice di voler dedicare il proprio fine settimana al relax, e invece Di Maio lo invita a continuare a lavorare sui dossier per l'alta velocità, in modo da poter prendere una decisione per lunedì, ultimo giorno utile per poter intervenire sui bandi per i lavori all'alta velocità. E per la prima volta sembra concretamente a rischio la stessa tenuta del governo. Mi sono rotto le scatole, lo sfogo del ministro dell'interno, ma anche i pentastellati danno segno di nervosismo. Il sottosegretario Buffagni certifica, siamo già in crisi. Concetto ribadito dallo stesso Di Maio, per il quale stavolta è in gioco il destino dell'esecutivo, e accusa Salvini di fare discorsi da bambini, e spiega, andare al muro contro muro sarebbe dai responsabili. Le opposizioni attaccano. Zingaretti guarda avanti e dice, in caso di crisi sulla TAV è necessario andare al voto, questa maggioranza non è unita su nulla, anche Forza Italia vede un esecutivo al capolineo. E intanto è polemica sulla notizia data dal nostro Tg dell'esistenza di uno studio della Commissione Europea sull'impatto socio-economico ed ambientale dei corridoi transeuropei, tra cui la TAV, in parte realizzato dalla TRT, di cui è Presidente Marco Ponti, l'ingegnere capo della Commissione nominata da Toninelli. Il ministro per le infrastrutture dice, non è vero, ma i documenti lo smentiscono. Il Tribunale del Riesame ha revocato la misura degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, indagati per banca rotta, fraudolenta e falsa fatturazione, però c'è una nuova misura restrittiva per otto mesi, non potranno svolgere attività imprenditoriale. Il primo commento Tiziano Renzi lo affida ad un messaggio su Facebook. La libertà non ci basta, scrive, ora vogliamo dimostrare la nostra innocenza. Ora che il Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari per lui e per la moglie, Laura Bovoli, disposti lo scorso 18 febbraio per i reati di banca rotta fraudolente e false fatturazioni. Il provvedimento è stato deciso dai giudici, dopo ricorso presentato dal legale dei coniugi, che ha definito l'arresto sproporzionato, una misura cautelare che il GIP aveva confermato dopo aver interrogato i genitori dell'ex premier. Le motivazioni ancora non si conoscono, arriveranno entro un mese. Il Riesame, pur rimettendoli in libertà, però ha emesso una nuova ordinanza disponendo a carico dei coniugi la misura dell'interdizione per otto mesi da ogni attività imprenditoriale. Durante l'interrogatorio, lo scorso 25 febbraio, Laura Bovoli aveva annunciato di essersi dimessa dall'incarico di amministratrice dell'A26, la società di famiglia per cui è stata rinviata a giudizio anche dalla procura di Cuneo. Ormai siamo depensionati, aveva aggiunto Tiziano Renzi. Il figlio, Matteo, da parte sua ha ricordato come questi giorni siano stati più brutti della sua vita e che ora inizierà una lunga maratona nelle aule di tribunale. A tre settimane dall'ora X il Regno Unito ancora non sa come verrà affrontata la Brexit. Mentre continuano le trattative, la prossima settimana sono previsti una serie di voti parlamentari. Oggi Teresa May ha pronunciato una frase che ha rotto di fatto un tabù. Potremmo anche non uscire mai. Questa era una delle ipotesi, ma la più estrema. Vediamo. Nessuno sa cosa potrà accadere se l'intesa verrà bocciata nuovamente. Potremmo addirittura non uscire affatto. L'ultimo appello di Teresa May perché il suo accordo sulla Brexit non venga bocciato dalla Camera dei Comuni e giunto da Grimsby nel Lincolnshire, dove il Lib nel 2016 stravinse. Tuttavia in assenza di quelle ulteriori garanzie da parte dell'Europa che la Premier sperava di strappare, quell'appello pare destinato a cadere ancora nel vuoto, aprendo la strada agli scenari più svariati dall'uscita senza accordo al rinvio del divorzio con l'Unione fino a, chissà, un secondo referendum. Il nodo rimane quello del confine tra Irlanda e Irlanda del Nord che, secondo la Commissione, deve rimanere aperto anche per tutelare gli accordi del Venerdì Santo che misero fine alla guerra civile nell'Alster. Michel Barnier, caponegoziatore di Bruxelles, è stato chiarissimo facendo di fatto via Twitter un'ultima offerta. L'Unione si impegna a dare al Regno Unito l'opzione di uscire dal territorio dell'Unione doganale in modo unilaterale, mentre gli altri elementi del backstop devono essere mantenuti per evitare barriere alle frontiere. Il Regno Unito non sarà forzato a restare nell'Unione doganale contro la propria volontà. Difficilmente i Brexiteers conservatori della Camera dei Comuni si accontenteranno nel caso l'accordo dovesse essere nuovamente affondato. Mercoledì si voterà per il no deal e, nell'eventualità di un altro no, per il rinvio della scadenza del 29 marzo. La Corea del Nord potrebbe stare lavorando ad un nuovo missile. Sono state scattate infatti delle immagini satellitari che mostrano dei movimenti sospetti in una base, quella di San Undong, da cui già in passato erano stati lanciati dei missili e che era stata smantellata, come gesto di buona volontà, da Kim Jong-un prima del primo vertice con Trump. Le foto satellitari risalgono però al 22 di febbraio, cioè prima del secondo vertice, quello fallito in Vietnam. Veniamo ora alla cronaca italiana al processo per la morte di Stefano Cucchi. Oggi, durante una delle udienze, sono emersi nuovi documenti. È sfuntata infatti una relazione medica che era stata finora tenuta segreta di cui il comando provinciale dei carabinieri sarebbe stato a conoscenza. È una relazione preliminare effettuata prima dell'autopsia sul corpo del geometra romano. Nel documento secretato si evidenzia che non era possibile accertare le cause del decesso. Nella relazione dei carabinieri, invece, veniva esclusa la possibilità di un collegamento tra le fratture rilevate e la morte del giovane. Ha tentato il suicidio ed è in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Ferrara, Michele Castaldo, l'uomo di 57 anni, reo confesso, per l'omicidio della compagna Olga Matei. Ricorderete, questa storia è stata al centro di forti polemiche pochi giorni fa, perché con una sentenza era stata dimezzata la pena, perché erano state concesse tra le varie attenuanti anche quelle della tempesta emotiva legata alla gelosia. Andiamo in Sardegna. Dopo un mese di rivolta dei pastori sardi, oggi si è arrivati ad un accordo intorno al tavolo convocato in prefettura Sassari, si è trovata la mediazione fissando il prezzo di ogni litro di latte a 74 centesimi, cioè il costo di produzione. A novembre poi scatterà il conguaglio calcolato in base alla quotazione media del pecorino romano alla borsa di Milano. A sbloccare il muro contro muro ha contribuito anche il decreto firmato ieri dal governo che ha stanziato 24 milioni di euro per sostenere la filiera lettiero-casearia in Sardegna. Il calcio, la Juventus nell'anticipo risolve con il 4-1 la partita contro l'Udinese. Oggi a Roma è arrivato il nuovo allenatore, e cioè Claudio Ranieri. La Juventus si sbarazza facilmente dell'Udinese risparmiando molti titolari, a quattro giorni dal tentativo di rimonta Champions contro l'Atletico Madrid. A Torino Allegri mischia le carte e il 19enne Ken sfrutta l'occasione realizzando due reti nello spazio di appena mezz'ora. Lo stesso attaccante classe 2000 si procura nella ripresa il rigore realizzato da Emre Can. Poi il poker dell'altro centrocampista Matuidi precede il definitivo 4-1 del friulano Lasagna. La capolista Juventus sale al provvisorio più 19 sul Napoli, mentre Claudio Ranieri si è già ripreso la Roma. Sbarcato in mattinata nella capitale, il 67enne tecnico Testaccino ha diretto nel pomeriggio la prima seduta a Trigoria. Ci servivano mani esperte, il bentornato di Totti al nuovo allenatore, al quale il presidente Pallotta ha chiesto la qualificazione alla prossima Champions League. Ce la giochiamo in 12 giornate. Ai calciatori ho chiesto determinate cose, a cominciare dalla serenità. Le prime parole di Ranieri che fino a giugno guadagnerà un milione di euro più bonus, senza alcuna garanzia per il futuro. Oltre a Di Francesco, esonerato ieri, via dalla Roma anche il direttore sportivo Monci. Al suo posto è stato promosso Ricky Massara. L'1 e 8 minuti, noi ci fermiamo qui, ma come sempre domattina alle 7 l'informazione torna sulla nostra rete. Arrivederci e buonanotte. L'1 e 9 minuti, noi ci fermiamo qui, ma come sempre domattina alle 7 l'informazione torna alla nostra rete.